Ulteriore taglio di imposte ed accise sul carburante anche in Molise, così come fatto dal Friuli Venezia Giulia. Una strada percorribile pure in regione, già aria depressa, povera e poco sviluppata. Arriba a dirlo la consigliera regionale Aida Romagnolo, a margine di un incontro avuto a Campobasso con i componenti del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d'Italia, organismo dipartito dalla stessa presieduto. Ritengo, ha rimarcato, che dopo la riduzione del costo del carburante predisposta dal governo Draghi pochi giorni fa, il Molise potrebbe decidere per una diminuzione ulteriore di circa 30 centesimi. Sarebbe per i molisani un vero risarcimento per tutti i danni patiti, un grande segnale. Ad oggi la regione Friuli Venezia Giulia si è candidata a diventare il miglior distributore di carburanti d'Italia, considerati i prezzi saliti alle stelle. Seppure nel Molise, ha aggiunto l'esponente di centrodestra, l'aggiunta di Palazzo Vitale approvasse una delibera che disponesse un taglio di imposte e accise regionali con una conseguente riduzione del prezzo a distributore, già dai prossimi giorni sarebbe, e lo ripeto, il più grande segnale verso tutti i molisani. Con una tale decisione, il costo del carburante registrerebbe o meno 60 centesimi al litro, una misura tempestiva che permetterebbe di dare una risposta ai cittadini con un reale sostegno di massa. Bene quindi farebbe l'aggiunta regionale del Molise, ha concluso ad abbassare le accise per aiutare concretamente le famiglie e tutte le realtà economiche del territorio.